330 metri di erba vera sul mattonato di Piazza Grande per un colpo d'occhio unico ed ancora oltre 600 commensali con un unico dress code, il Total White. Nel cuore della città di Arezzo è così tornata la cena bianca di ConfCommercio e dei locali della piazza. La cena col patrocinio del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici rientra nel progetto Vetrina Toscana Tavola 2024 grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Per il quinto anno così la piazza ha indossato il suo abito da sera diventando un suggestivo salotto dove gli ospiti hanno potuto gustare piatti gourmet legati alla tradizione toscana serviti dai quattro ristoranti coinvolti. Come sempre poi non solo buon cibo ma anche musiche e spettacoli con trampolieri e farfalle luminose che hanno illuminato la notte. Per l'occasione infine è stato possibile anche visitare sino a tardasera il Palazzo di Fraternita con le sue mostre collaterali compresa quella dedicata ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari alla progettazione del suo celebre loggiato.